Altra iniziativa dell'Associazione Siamo Taranto e siamo nella splendida location della Baia del Tramontone a Taranto, una iniziativa di pulizia, di bonifica dell'area dell'Associazione Ora Menzionata in collaborazione con Chima Ambiente Amio e abbiamo una delle socie fondatrici. Sì, salve, noi siamo qui, ci riuniamo sempre, quasi ogni domenica per fare queste attività di volontariato. Il suo nome? Angela Rosati. Perfetto. Ci riuniamo qui perché vogliamo sensibilizzare quante più persone possibile per cercare di pulire il nostro territorio, che è bellissimo, abbiamo un posto meraviglioso, purtroppo persone che sono incivili ce ne sono, ma ce ne sono anche tantissime altre che sono meravigliose. Per colpa di pochi si deturpa una magia. Esattamente, però noi siamo qui proprio per dimostrare che ci sono anche tante persone bravissime che aiutano a tenere tutto questo pulito, lo abbelliamo con fiori, piante. Quindi io voglio poi ringraziare questo gruppo di volontari che ogni giorno... Che lavora con gioia. Con gioia, siamo sempre con sorriso dietro queste mascherine, ma siamo sempre sorridenti e felici. E quindi ci riuniamo veramente ogni settimana con tanta gioia. Io faccio un appello a più persone, quante volete venire a trovarci, noi siamo sempre qui, seguiteci sulla nostra pagina di Facebook, siamo Taranto, così siete sempre aggiornati sui nostri posti. Grazie a tutti.